Cari figli L'Altissimo mi ha permesso di essere in mezzo a voi, di pregare per voi, di essere vostra madre ed il vostro rifugio Vi invito, figlioli, ritornate a Dio e dalla preghiera e Dio vi benedirà in abbondanza Grazie per aver risposto alla mia chiamata Grazie a tutti Grazie a tutti